Lui aveva paura dei cani, non lo so se è vero, qualche giorno prima un mio compagnolo è arrivato con un cani all'allenamento, lui era uscito e si era spaventato, allora ha fatto, di chi cazzo è con i cani? Voglio vedere i cani qua, portatelo via, a me mi fanno paura, porca puttana via questi cani. Dopo quindici giorni, non lo so, io avevo mio figlio Mattia e avevamo questo labrador, allora mi accompagna a fare l'allenamento e il mio cane, figurati, era abituato con i palloni, come ha visto il pallone, in mezzo al campo a giocare e il mister esce, vede questo cane che correva con un missile, lui che aveva preso paura, e allora fa, ah, dei cazzo è quel caneo, i mister gli fanno, è dei rovi, oh fammolo giocare, dai un biscottino.